Il legame fra Lamborghini e con The Naste, quindi Vanity Fair, è un legame che dura da molto tempo. Abbiamo fatto altri eventi insieme, sempre qui alla mostra del cinema. Quello che ci accomuna per entrambi è la passione per il fashion, il lusso, ma anche il cinema. A Venezia durante questo periodo è l'argomento principale ed è un argomento che per entrambi è importante. Ogni giorno scopriamo che le nostre vetture vengono vendute a celebrities, sia nel mondo dello sport, nel mondo della musica e nel mondo del cinema. Grazie a tutti.